Buongiorno! Buongiorno Antonella! Antonio, quelle bistecche dell'altra sera erano la fine del mondo! Lo stato di abbandono in cui versa il cimitero di Cava dei Tirreni torna al centro delle polemiche. Numerosi cittadini cavesi infatti nei giorni scorsi hanno lanciato un appello all'amministrazione comunale lamentando lo stato di incuria in cui versa il luogo sacro. Leccandosi al civico cimitero è facile imbattersi in sterfaglie, bidone di rifiuti stracolmi e il viale che in alcuni casi sono divenuti delle vere e proprie gruira. La pubblica incolumità inoltre è messa a repentaglio da alcuni loculi abbandonati e pericolanti. Si resta ancora in attesa dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza della chiesa e dell'ossario, chiusi ormai da diversi anni. E a causa della carenza di personale, da mesi sono cambiati anche gli orari di apertura e chiusura del civico cimitero. A farsi portavoce delle stanze dei cittadini, l'ex consigliere comunale Vincenzo Lamberti. L'incuria e il degrado purtroppo al civico cimitero fanno da padrone. Nel senso che occorre manutenzione, occorre cura del verde pubblico, occorre il taglio delle erbacce, occorre la pulizia dei viali, occorre in generale attenzione. C'è bisogno di manodopera, c'è bisogno di dare forza ai pochi, pochissimi operai che vi lavorano, che fanno già tanto, anzi tantissimo, considerata la grandezza del civico cimitero, parte vecchia e parte nuova. E considerando tutto quello che c'è da fare, per cui ancora una volta un appello al comune, all'amministrazione comunale affinché provveda celermente ad occuparsi della situazione di degrado del nostro civico cimitero. E come giustamente recito una massima, il grado di civiltà di una comunità dipende anche dal rispetto che ha verso i defunti e bisogna avere rispetto verso quel luogo e quindi bisogna avere cura e decoro. C'è un bando, tra l'altro, la cui graduatoria è stata pubblicata ad ottobre, sono passati sei mesi circa e gli operai affossatori ancora non sono stati assunti, non si conoscono i motivi. Certo c'è l'urgenza e la necessità degli operai affossatori, ma come c'è urgenza e necessità di tanti altri operai per provvedere ai servizi ai quali facevo prima riferimento. Un'altra proposta che pure è stata più volte evidenziata, fatta, è quella di impiegare, impegnare i beneficiari dei redditi di cittadinanza in queste attività di pubblica utilità.